cari amici buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di ale lo statale oggi è martedì 19 aprile 2022 sono le ore 15 e 50 sono a sesto fiorentino che sto caricando una navetta per l'aeroporto di pisa dopodiché ci sposteremo a ponte d'era per caricare un carico da portare all'interporto a bologna e quindi questa sarà la nostra giornata di oggi siamo al martedì dopo le feste pasquali quindi anche stamani mattina c'era il divieto fino alle ore 14 io sono entrato a lavorare alle ore 15 e mi sono piazzato qui al carico e sto aspettando un attimino che finiscano e poi si parte speriamo di non trovare tanto traffico più che altro per salire a bologna magari qualcuno che ancora deve rientrare verso casa dopo le feste pasquali boh chi lo sa staremo a vedere dopo il tratto soprattutto da calenzano a barberino è sempre un'incognita e speriamo in bene ci aggiorniamo dopo ciao bye ciao amici allora carico terminato sono le 16 e 20 a questo punto si parte per pisa e niente dai è uscito anche il sole prima era un po' nuvolosa la faccenda invece meno male che è uscito un po' il sole e via iniziamo questa settimana molto corta perché è già martedì via su arriva a venerdì così là un baleno ci aggiorniamo dopo ciao bye allora amici visto che tanto la strada qui per pisa la si conosce ormai tutta a memoria ne approfitto per rispondere a qualche domanda che mi avete fatto su instagram per un Q&A allora oggi si risponde a Luca trattino basso dom che mi chiede quali sono le tipologie di lavoro che mi piacerebbe provare in futuro come ben sapete io adesso lavoro pol centinato barra furgonato quindi comunque rimorchi chiusi trasporto solo ed esclusivamente merce pallettizzata quindi diciamo che il mio lavoro è tutto qua che cosa mi piacerebbe provare in futuro a me come settore diciamo alternativo a questi due che sto facendo adesso mi ha sempre attirato in container non so perché non so per come non fatemi detta domanda però il lavoro del container non lo so ma sempre un po' tirato ecco ma sempre un po' affascinato poi ormai uno dice sai c'è tanto c'è da aspettare tanto sono abituato a farle attese nelle logistiche come le foglie delle logistiche le posso farne porti negli interporti alle dogane quello c'è da fare tanto si sa purtroppo la vita del camionista spesso si tratta di aspettare aspettare e non porti quindi non lo so a me il settore del container è un settore che particolarmente mi ha sempre mi ha sempre abbastanza affascinato comunque il fatto di sapere che comunque è merce che arriva dall'altra parte del mondo o che deve andare dall'altra parte del mondo poi vedere sempre queste gru gigantesche che prendono container e li piazzano sui camion o che li levano dai camion pescari a carri non lo so ma è un settore che mi ha sempre un po' tirato quindi direi sicuramente il container poi però in realtà mi piacerebbe provare a fare anche un tipo di lavoro sempre col centinato però più industriale quindi magari non lo so il trasporto di ferro di bobine trasporto di legno nel senso le assi di legno questa roba qua trasporto macchinari trasporto industriale anche potrebbe essere una buona diciamo un qualcosa che già mi potrebbe piacere due settori quindi completamente diversi questo secondo perché comunque il centinato già un po' lo conosco però diciamo che per completezza della tipologia di semirimorchio mi piacerebbe provare a fare anche questo tipo di lavoro quindi Luca spero che questa risposta sia diciamo che ti abbia soddisfatto allora dopo questa domanda di Luca rispondiamo a Pietro Marrone che invece mi chiede quale camion mi piacerebbe provare ce ne sono diversi in realtà diciamo che quello che mi piacerebbe provare più di tutto in assoluto in realtà sarebbe un camion americano i musoni, i famosi musoni americani quello è un camion che qui da noi è molto difficile da vedere da trovare quasi impossibile però i camion americani sono di una bellezza disarmante secondo me mi piacerebbe veramente tanto 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 provarne uno di camion europei quindi diciamo che sicuramente mi piacerebbe fare un giro sul nuovo MAN TGX sul nuovo DAF soprattutto per il discorso delle cabine allungate quindi con le nuove misure quindi questo spazio interno maggiore rispetto alle cabine che siamo abituati a conoscere e ad utilizzare il nuovo Volvo che insomma io non ho mai provato un Volvo però mi piacerebbe provare il Volvo mi piacerebbe anche in realtà avere la possibilità di fare dei test drive su più generazioni di mezzi per vederne proprio la diciamo l'evoluzione quindi magari partire dal Volvo che ne so di due serie fa quindi da un Volvo FH del 2009 per passare poi all'FH4 che è il penultimo diciamo modello uscito e poi arrivare all'FH nuovo ultimo 2021 mi sembra diciamo per una completezza più di così di curiosità mia ecco poi sicuramente anche mi piacerebbe provare il nuovo Renault visto che ho provato già alle vecchie generazioni sia il premium che il midlum in realtà prima quella motrice però era comunque un Renault con concezione di fine anni 90 quindi ho provato quello il Renault premium che l'ho usato per lavoro con il cambio manuale il Renault premium con il cambio automatico perché ho provato anche quello una motrice però un trattore il T e a questo punto mi piacerebbe anche provare il T nuovo 2021 perché comunque ho visto qualche video qua e là su internet insomma ci sono diverse novità interessanti che da fuori non si vedono tanto diciamo che fuori la novità principale che salta prima all'occhio sono i nuovi gruppi ottici quindi questi nuovi fari con questa striscia nel mezzo che serve per le luci diurne e le frecce parlo dei fari anteriori però dentro ci sono anche delle novità belle e importanti per esempio la regolazione del volante dello sterzo l'ho vista su qualche video molto migliorata hanno aggiunto dei vani un vano portoggetti fatto in una maniera più diciamo più intelligente secondo me almeno da quello che sono riuscito a vedere dal video quindi insomma diciamo che il Renault T 2021 sicuramente è un canon che mi piacerebbe molto provare quindi diciamo che se dovessi sceglierne quattro quindi abbiamo il nuovo MAN il nuovo DAF il Volvo e il nuovo Renault T poi ovviamente Scania perché Scania mi è sempre piaciuto lo Scania mi piacerebbe tantissimo provarlo però anche mi piacerebbe fare proprio un excursus quasi dalle vecchie generazioni alle nuove quindi magari cominciare con la serie 4 con il 124 per esempio con il 164 per poi passare alle varie generazioni di Scania R per arrivare poi all'ultima e perché no provarne anche una nuova con i nuovi motori Super che hanno sviluppato di recente compreso anche la nuova i nuovi cambi che promettono un 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 l'esparmio di carburante ancora maggiore rispetto alla alla serie precedente alla serie precedente di motori e cambi e aggiungerei anche nel finale il Mercedes nuovo generation 2 perché insomma Mercedes è un bellissimo mezzo da vedere dentro io ho provato l'MV4 come avete potuto vedere in qualche video sicuramente è un canon che mi piacerebbe tanto tanto provare ciao amici allora siamo arrivati all'interporto qui anzi all'aeroporto ora vi faccio vedere qui che ponte c'è eccolo ole uno ci sono due dossi alle giunture di questo ponte roba da impazzire qui ora ce n'è un altro che forse è anche peggio di quello là appena si scende dall'altra parte del ponte roba da manicomio roba da manicomio poi però l'importante mi raccomando è avere sempre il mezzo in ordine per benino tutto a posto questo guarda lì a 20 all'ora bisogna prenderlo però questa roba va bene lasciamo perdere lasciamo ciao amici 5 minuti tondi tondi scarico effettuato ma che bellezza si mette via il documento e ora ce ne andiamo a Ponte d'Era a fare il carico per Bologna andiamo via e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.